Green Pass perché? Non è il vaccino sì, il siero sì, anzi la terapia sì e la terapia no. Noi non ce l'abbiamo con nessuno, noi è un discorso di libertà, la libertà di scelta, la libertà di poter decidere il nostro destino e non essere obbligati a una terapia ancora sperimentale, visto che in ottobre ci saranno 5 cure già approvate dall'Unione Europea che dicono gli esperti, i luminari che hanno una proprietà di distruggere e di guarire il Covid e allora se permettete io posso essere libero di scegliere se farlo o no, io mi sono vaccinato, mi sono sempre vaccinato, ma questa terapia io non la voglio fare e non per questo devo essere discriminato, devo avere un pass per andare a mangiare al chiuso e gli altri fuori che mi guardano e io dentro a mangiare al chiuso, ma questa è discriminazione, la nostra Costituzione tutto questo non lo consente, è questo che dobbiamo far passare come messaggio e mi dicono che se non mi vaccino, come lo chiama Dragon Ball, muoio? Ha detto questo? E Burieni, Burioni, non so chi, mi ha detto perfino che mi paga l'abbonimento di Nexis perché devo stare in casa come i sorci? Oppure, peggio ancora, il sindaco di Buonporto che ha detto che chi non si vaccina si deve mettere il cartello al collo, siamo arrivati a questi livelli, gli uni contro gli altri, gli uni contro gli altri e non è possibile, io devo poter voler bene a uno che si è inuculato in siero come lui mi devo poter voler bene a me, è che ci ha messo contro, il popolo è contro, loro, il sistema, i politici fanno quello che gli pare, come gli pare e quanto gli pare, perché sono tutti d'accordo e noi questo non lo possiamo far passare.